Nella prossima puntata di The Walking Dead. Ehi tu, sei vivo lì dentro? Rick trova una via d'uscita, ma il mondo dei vivi è più crudele del mondo dei morti e più affamato. Il primo assoluto, The Walking Dead. Il secondo episodio, lunedì prossimo alle 22.45 su Fox. Il secondo episodio, lunedì prossimo alle 22.45 su Fox.